Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale. Ci occuperemo del blitz eseguito la scorsa notte a Gela, squadra mobile e polizia hanno decapitato il clan mafioso degli Emanuello, dedito alla detenzione al traffico di droga. In manette anche il regente della famiglia, 16 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare, una è riuscita a sfuggire alla cattura. Vediamo. Avevano riorganizzato il clan di Cosa Nostra Emanuello e si dedicavano alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Nella notte sono stati bloccati nell'ambito di un vasto blitz che visto impegnati i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, Catania, Palermo, Parma e Torino, assieme agli agenti dei commissariati di Gela e a quelli della reparto prevenzione crimine di Palermo. 16 le misure cautelari eseguite messe dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, Alessandra Bonaventura giunta su richiesta della direzione distattuale antimafia del capoluogo Nisseno. In carcere è finito Gianluca Pellegrino, 32 anni, ritenuto dagli investigatori il nuovo reggente del clan. Arresti domiciliari per Alessandro Emanuele Pellegrino, 26 anni, Giovanni Battista Campo, 50, Pietro Caruso, 32, Emanuele Faraci, 37 anni, Orazio Tosto, 23, Angelo Famao, 28, Johnny Cavallo, 24 e Guido Legname, 21 anni. Altri dei sei soggetti sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di Rosario Pern, Gabriele Macchiarella, Loreto Saverino, Francesco Cuntro, Angelo Scialabba e Nunzio Alabiso. Alla cattura è sfuggito un 24enne. Secondo quanto accertato dalle indagini svolte dalla squadra mobile Nissena e dal commissariato di Gela, diretti rispettivamente da Marzia Giussolisi e Francesco Marino, Gianluca Pellegrino, scarcerato nel 2011 dopo otto anni di carcere per mafia e droga, era tornato attivo nell'ambito criminale gelese prendendo le redini della consorteria mafiosa degli Emanuele. Numerosi collaboratori di giustizia ne hanno confermato la sua caratura criminale. Approfittando dello stato di detenzione di altri affiliati al gruppo, anche dell'Inzivillo, ha riallacciato i contatti con i sodali, consolidando il potere mafioso acquisito e dimostrando lo spessore criminale mantenuto nel tempo. Non soltanto droga, ma anche estorsioni. Pellegrino, infatti, è ritenuto il mandante del danneggiamento col fuoco ai danni di un'abitazione di un imprenditore che si era rifiutato di pagare. In merito al traffico di sostanze svevacenti, le indagini hanno appurato che la droga, hashish, marijuana e cocaina, veniva acquistata a Catania e a Palermo e poi rivenduta a Gela. Il clan, decapitato la scorsa notte, era ben organizzato. Ognuno aveva un ruolo. C'era chi contattava i fornitori, chi trasportava la droga, chi la deteneva e chi la spacciava. Sono 23 gli episodi di gestione ampiamente documentati, anche con numerosi sequestri di sostanza stupefacente operati dagli investigatori, specie in ore notturne. Il gruppo, infatti, smerciava droga, soprattutto nei locali estivi. Singolare il rinvenimento di alcuni grammi di cocaina anche nello scarico fognario dell'abitazione di Giovan Battista Campo. Il figlio, infatti, se ne era disfatta buttandola nel water. L'associazione criminale disponeva di armi, anche modificate, che utilizzava compiendo atti intimidatori per spadroneggiare in città. Nel corso dell'operazione di polizia, denominata Falco, sono stati sequestrati 7.800 euro in contanti a Gianluca Pellegrino, una scacciacani al fratello Alessandro e della sostanza stupefacente, 12 grammi di marijuana e 4 di hashish, un bilancino di precisione e l'occorrente per il confezionamento dei dosi a Guido Legname. Sentiamo adesso il dirigente della squadra mobile di Caltanissetta, Marzia Giustolisi. Gianluca Pellegrino è una figura assolutamente importante che noi, nel corso di queste indagini lunghe e complesse, lo posso dire perché veramente sono durate anni, hanno permesso di capire come il Pellegrino ha assunto il ruolo di reggente di Cosa Nostra, Famiglia Emanuello. Infatti, considerate che in questa ordinanza sono compendiate anche moltissime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma non solo quelli oramai più vecchi, tra virgolette, che quindi ci descrivono un Pellegrino Gianluca che già da giovanissimo viene assoldato da Bella Francesco che lo considerava suo figlioccio dentro le fila di Cosa Nostra. Tant'è che poi lui viene messo in carcere, sta otto anni e mezzo in carcere, quando riesce verso la fine del 2011, noi cominciamo di nuovo queste attività d'innagine che con grande sorpresa, ma poi non tanta, ci fanno comprendere come fosse tornato nuovamente in auge. Anche perché in quel periodo è anche vero che duri colpi erano stati inferti al gruppo Rinzivillo e avere un capo nuovo effettivamente serviva. Lui questo ruolo l'ha sicuramente incarnato da mafioso, per come ci riferiscono anche i collaboratori, come vi ho detto prima, ma anche quando esce, e lì volevo riagganciarmi al discorso precedente, ci sono i collaboratori più recenti invece che ce lo inquadrano. Quindi anche quando lui ritorna a Gela dopo la scarcerazione nel 2011, come incardinato nella famiglia. Tant'è, vi dico questa cosa che vi fa comprendere l'importanza della figura del pellegrino, lui è il soggetto che si va a rapportare con Barberi Alessandro, rappresentante provinciale di Cosa Nostra e da noi poi arrestato nell'operazione Fenice, come ricorderete. O si cambia radicalmente il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Gela, oppure niente voto favorevole al piano economico finanziario che sarà presentato dall'Aggiunta Messinese che fissa l'aumento dell'Atari. Lo dice il gruppo consigliare Polo Civico. L'avviso arriva dai consiglieri Guido Siragusa e Sandra Bennici. Il sistema di raccolta denominato Porta a Porta, spiegano, ha reso la città più sporca, creando le condizioni per cui chi oggi scrupolosamente fa la differenziata, e sono circa il 35% dei gelesi, non soltanto non ha alcun beneficio economico, ma addirittura ne viene penalizzato vedendosi aumentata la tariffa in maniera sconsiderata. Ci troviamo ad avere a che fare con un sistema iniquo che penalizza i virtuosi e i premi non volenterosi e che peraltro negli anni ha prodotto costi esorbitanti a carico della collettività, spesso incontrollati e ampiamente discrezionali. I due consiglieri subordinano il loro voto favorevole al rispetto da parte dell'amministrazione comunale, di una serie di condizioni, cioè premiare chi fa la differenziata attraverso il conferimento continuo in apposite isole, concludono Siracusa e Bennici. Bisogna eliminare del tutto i costi aggiuntivi che determinano l'aumento smisurato delle tariffe. L'amministrazione inoltre dovrebbe perseguire gli indisciplinati attraverso azioni di repressione e controllo condotte dal comando di Polizia Municipale e rendere così la città più pulita. Un supplemento istruttorio consistente nella trascrizione con consulenza tecnica del Pubblico Ministero della registrazione del comizio del 22 maggio del 2015 con traduzione in italiano delle parti in dialetto al fine di accertare come stanno realmente i fatti e quanto disposto dal GIP e dal Tribunale di Gela Veronica Vaccaro in merito al procedimento per difamazione intentato da Savero Di Blasi contro il Presidente della Regione, Rosario Crocetta. L'episodio risale proprio al 22 maggio in occasione di un comizio infuocato che si tenne in piazza Umberto I durante la campagna elettorale per le amministrative. Sul palco a comiziare c'era il sindaco sciente Angelo Fasulo e c'era l'attuale governatore Crocetta. Un comizio con tanto di fischi e urla di contestazione che, secondo quanto osserve il GIP, non hanno mai un carattere nitido né possibile appurare da parte di chi provenissero. Si registra un vero e proprio fuori programma che vede poi un botta e risposta tra lo stesso Crocetta e gli ambientalisti di Blasi, Emanuele Amato e Rocco Tandurella che saliti sulla fontana della Dea Cerere urlano e gesticolano facendo il segno delle manette, tutto in dialetto gelese. Ed è proprio per questo motivo che il GIP ha disposto una perizia per la trascrizione del contenuto delle frasi che sono incomprensibili. La locale procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per difamazione nei confronti di Crocetta, ma, come dicevamo, il GIP ha disposto che le indagini proseguano. Di Blasi, infatti, sostiene che il governatore abbia pronunziato una frase offensiva nei suoi confronti e contro Emanuele Amato, in cui li qualifica come mafiosi che fanno la doppia vita, di sere mafiosi e di giorno gli ambientalisti. Una frase che Di Blasi ritiene denigratoria. Considerato che il giudice non ha potuto comprendere con esattezza e con certezza cosa Crocetta abbia detto, sia per la cattiva qualità dell'audio, altamente disturbato, sia perché lo stesso governatore ha usato il dialetto stretto, ha rigettato, come dicevamo, la richiesta di archiviazione, disponendo una perizia. Interventi immediati al fine di risolvere i problemi che si registrano in via V4, che è versa in condizioni di degrado, sono stati chiesti all'amministrazione comunale di Gela, dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. In questa via, dove insiste l'ingresso secondario della scuola Mattei, in cui tra dieci giorni si terrà tra l'altro il campus estivo, sono presenti i rifiuti ovunque e la zona è diventata un vero e proprio ricettacolo. Presentare e formulare richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di accesso ai fondi destinati all'8x1000 all'edilizia scolastica entro i termini previsti lo chiedono all'Aggiunta Comunale di Gela, ai consiglieri Salvatore Sammito e Angelo Amato, in considerazione del fatto che grazie ad un emendamento alla legge di stabilità il contribuente può destinare il proprio 8x1000 anche al miglioramento, messo in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. 20.302 firme raccolte dal vostro comitato per chiedere fortemente cosa? La Bresti Unit subito, cioè praticamente noi con questa raccolta firme, e di questo comunque ringraziamo tutta la cittadinanza e anche il territorio che si è subito attivato per questa raccolta. È un momento importante perché praticamente dopo la raccolta noi chiederemo alle varie istituzioni che erano scritte nel foglio che abbiamo sottoposto alle persone, li metteremo al corrente dei risultati di questa raccolta e chiederemo subito l'attivazione di questa Bresti Unit. La prima tappa sarà il tavolo del dottore Iacono? Sì, l'ADOS è già inviato una richiesta di incontro urgente al dottore Iacono. Speriamo che questo incontro venga fatto in tempi brevi, considerando anche il fatto che non c'è necessità di risorse economiche importanti, ma c'è solo la necessità di un'organizzazione, di un servizio che peraltro funziona molto bene già da 14 anni. Dietro queste oltre 20.000 firme ci sono oltre 20.000 storie. Ci sono storie di donne che hanno subito un intervento, ci sono i familiari di queste donne e ci sono anche delle donne che attendono invece di avere l'assistenza di una unità di senologia complessa. Sì, questo è vero, perché noi siamo intanto testimonial perché siamo stati operati noi, per esempio io, 16 anni fa dal dottore Di Martino. Ed è da 16 anni che noi facciamo questa battaglia per poter avere un'unità di senologia complessa. Ancora oggi noi abbiamo camminato sempre con il dialogo per poter avere il tutto, però fino a oggi non ci siamo riusciti. Siamo arrivati a un punto che entro il 2016, se non si formano queste breast unit, noi rischiamo che nell'ospedale di Gela la mammella non si può operare più. C'è stata una popolazione che si è mossa solo ed esclusivamente perché ha capito il reale problema. Cioè ha capito che è un problema che può incidere su qualsiasi donna, per cui si è sentito vicino nell'operato che la nostra manifestazione praticamente andava incontro. Le firme non sarà solamente un cartaceo che sarà riposto fra i nostri archivi, bensì sarà un'arma con cui noi possiamo andare a combattere una battaglia molto forte. Svolgeremo un ruolo di primissimo piano all'interno della politica territoriale, dando precedenza proprio ai giovani sicuramente capaci e volenterosi di scoprire una politica di destra, attiva, vicina ai cittadini e lontana dai giochi di palazzo, puntando particolare attenzione sulle problematiche che riguardano i giovani lavoratori, gli studenti e gli universitari. Lo dice Francesco Minardi, presidente di destra e movimento in merito alla prima assemblea del fronte giovanile. La stessa assemblea ha eletto segretario Raffaele Docente, il suo vice è invece Oscar Marchetti. La nascita del fronte giovanile, dice ancora Minardi, rappresenta per destra e in movimento la conferma di un duro lavoro di organizzazione e ricostruzione che il nostro movimento, pur senato ancora da pochi mesi, sta portando avanti nel nostro comprensorio. Noi giovani del fronte giovanile, sostiene il neosegretario docente, abbiamo deciso di scendere in campo e lottare per riprenderci quanto ci è stato tolto, il sogno di un futuro migliore. Per questi motivi invitiamo tutti i giovani di buona volontà di questa città ad unirsi a noi per lottare tutti insieme per i nostri diritti. Sono state pubblicate al Comune di Gela le graduatorie con i nomi dei soggetti ammessi ed esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali, Licia Abela. L'elenco è consultabile all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Gela oppure negli uffici del segretariato sociale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi, torniamo tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo parlandovi del libro dedicato ai 50 anni di sacerdozio di Monsignor Grazia Labiso. Un omaggio della parrocchia Maria Santissima assunta in cielo a Monsignor Grazia Labiso in merito al cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale. Si tratta di un libro scritto da Gabriela Portalone che ieri nella chiesa del Rosario è stato consegnato nelle mani della sacerdote Giavicario Foranio di Gela. Il titolo è emblematico, un uomo, un prete, una città. È stato un lavoro che mi ha appassionato molto anche perché oltre a conoscere l'operato di Monsignor Labiso ho conosciuto una città, cioè ho fatto una serie di studi su questa città e devo dire che poi mi ha coinvolto. Quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale che dopo i festeggiamenti della ricorrenza del mio cinquantesimo hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. Ho chiesto al Signore che il suo cammino sacerdotale che ha davvero fecondato tanti frutti buoni per questa città possa continuare ancora a lungo e anche di riconoscenza e di gratitudine perché la sua testimonianza possa essere di esempio soprattutto per i giovani sacerdoti che sono chiamati ad annunciare il Vangelo e di annunciarlo con quel senso di responsabilità che nasce ovviamente dall'amicizia e dalla relazione con il Signore. Ieri tra gli altri erano presenti Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana e Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazzara del Vallo. È una figura di riferimento sia per la comunità ecclesiale che per la comunità civile in tutte le sue espressioni, soprattutto interprete delle istanze di rinnovamento della città, di liberazione da tutto ciò che ha significato soprattutto la mafiosità che a Gela ha avuto momenti di grandissima tragicità. Una voce sempre chiara, sempre forte, che sicuramente è risultata decisiva per un cammino di ripresa e di restaurazione sia dell'ordine che anche di un umanesimo vero. Monsignor Domenico ha vissuto questi 50 anni della nuova Gela nello splendore di una grande crescita, anche decadenza e speriamo che sia ancora testimone di una ripresa più splendida e generale della città. Cosa le ha insegnato? Ma ha una grande coerenza con la propria fede e col proprio impegno. Lui ha saputo coniugare in questi suoi 50 anni, direi, contemplazione e azione. Incomprensibile Sicilia si tratta del libro di Enzo Russo che sarà presentato venerdì 24 giugno prossimo alle 19.30 all'Eschiro Lab In piazza Salandra converserà con l'autore e l'avvocato Franco Gallo L'iniziativa porta la firma della libreria Mondadori Gela, Comune e Teatro Eschilo Anche Gela ieri ha promosso la giornata mondiale della rifugiato incontro tra musica e folclore nel cortile di Palazzo Pignatelli Una tavola rotonda dal titolo Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso ha visto la presenza di numerosi relatori C'era anche l'assessore comunale ai servizi sociali Ligia Abela Altri momenti sicuramente si ripeteranno nel corso dell'anno come per esempio momenti di incontro culturale e linguistico dove ci sarà proprio la possibilità per noi italiani, noi cittadini italiani di essere messi in comunicazione con questi ragazzi che inizieranno alla loro lingua e quindi anche alla loro cultura un modo pacifico e sereno per una convivenza quanto più bella possibile Numerosi i temi trattati La giornata rifugiato non è la giornata dedicata ai cittadini che hanno un altro colore di pelle ma è la giornata dedicata all'umanità cioè a quella che noi spesso annunciamo che spesso pedichiamo e che spesso, spessissimo, non testimoniamo Ecco, tu come me vuol dire questo vuol dire molto altro diciamo assieme ai bambini della nostra città e assieme a tanti lavoratori che ogni giorno sono in contatto con uomini e donne sicuramente meno fortunati di noi che vengono da tante altre parti del mondo e da lì sono scappate per evitare la morte chissà tra l'altro come L'archeoclub ha voluto contribuire per dimostrare l'apporto positivo che i cretesi e i rodi, i nostri fondatori della città di Gela hanno dato al momento della fondazione della città e la positività che ne è nata Ai nostri microfoni due ragazzi di colore, ospiti d'anni in città Io mi trovo bene qua a Gela da quando sono venuto qua ho trovato un sacco di amicizia qua a Gela Ma tu sei fuggito dalla guerra? Io posso dire sì perché nel mio paese c'è la guerra da 2011 fino ad oggi c'è la guerra e per questo cosa siamo venuti qua all'Italia per chiedere asilo politico Noi si trovo bene qua e anche voglio dire grazie a voi Gelesi perché sono venuto qua ho visto amici felici ho detto benvenuto amico benvenuto, benvenuto sono felice a questa cosa e voglio dire grazie a cittadini anche Gelesi Salvo Russello, uno degli organizzatori della giornata mondiale della rifugiato a Gela Non c'è nessuna distinzione semplicemente dei ragazzi che vengono da fuori vogliono integrarsi si stanno inserendo nei contesti sociali della nostra città lavorano, fanno tirocini formativi giocano nelle nostre squadre fanno attività sportiva ormai loro cercano in tutti i modi di dire grazie alla città di Gela perché li ha accolti perché gli sta permettendo di crearsi una nuova vita Partita di calcio venerdì alle 19.30 al Vincenzo Presti di Gela nell'ambito dell'iniziativa Tu come me l'evento patrocinato dal Comune vedrà in campo l'associazione antiracket Gaetano Giordano ed una squadra composta da elementi scelti fra il centro di accoglienza dei minori richiedenti asilo politico di Via Parioli l'iniziativa tende a favorire attraverso lo sport i doverosi processi di integrazione ormai ineludibili e altamente auspicabili per l'intera comunità Dopo il successo del torneo di quarta categoria terminato appena qualche settimana fa il grande tennis è stato ancora una volta protagonista all'Eschilo Tennis Club di Contrada Macchitella a Gela grazie al primo trofeo Open Blue Line da giudicarsi la vittoria e il monte premi finale il tennista ragusano Riccardo Cessari che ha fatto sua la finalissima vincendo in due set 6-3 e 6-3 sul giovane siracusano Alessio Siringo una sfida vincente e dall'alto tasso tecnico un successo anche di pubblico per l'evento sportivo valido come non a prova del circuito regionale Sicilia che lascia ben sperare per le prossime competizioni tennistiche organizzate ancora una volta in maniera impeccabile dal direttore tecnico dell'Eschilo Tennis Club Raffaele Giudice dai giudici arbitri Nicola Salerno e Lina Timpanaro all'insegna dello slogan anche tu puoi salvare una vita l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela coordinata da Orazio Coccomini per sabato 25 giugno prossimo propone con il supporto del CESVOP una giornata di sensibilizzazione per informare e formare cittadini sui metodi di primo soccorso BLS si tratta di un'iniziativa molto importante anche in considerazione dell'imminente stagione estiva in cui bambini e anziani assieme a chi lavora sotto il sole possono essere vittime di un colpo di calore che in certi casi può avere conseguenze serie le attività sono gratuite e aperte a tutti si svolgono nell'aula formazione della sede operativa di Via Falcone incontra da Brucazzi a Gela dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 a conclusione della giornata ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419 c'è anche un indirizzo di posta elettronica giubbeditaliagela chiocciola hotmail.com oppure una pagina facebook giubbeditaliagela oppure ci si potrà presentare direttamente sabato 25 giugno alle 8.30 presso proprio la sede operativa bene è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti